La giunta regionale della Campania ha approvato il calendario scolastico regionale 2021-2022 che fissa l'inizio delle lezioni il giorno 15 settembre 2021 ed il termine l'8 giugno 2022 per un totale di 220 giorni di lezione per le scuole dell'infanzia il termine fissato il 30 giugno 2022. Le singole istituzioni scolastiche per motivate esigenze possono anticipare per un massimo di tre giorni la data di inizio delle lezioni. Le attività didattiche sono sospese anche nei giorni 2 novembre 2021, commemorazione dei defunti, dal 23 al 24 dicembre 2021, dal 27 al 31 dicembre 2021 e dal 3 al 5 gennaio 2022, dal 7 all'8 gennaio 2022, vacanze, natalizie, i giorni 28 febbraio 2022 e primo marzo 2022, lunedì e martedì di carnevale, dal 14 aprile al 16 aprile 2022 ed il 19 aprile 2022, vacanze pasquali. Le celebrazioni sono confermate i giorni 27 gennaio, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah a sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte. 10 febbraio, giorno del ricordo, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo Giuliano Dalmata. 19 marzo, festa della legalità istituita dalla regione Campania nel 2012, in ricordo dell'uccisione di Don Peppino Diana come giornata dell'impegno e della memoria.